Questo camioncino che sta lavorando qui e sta scaricando per fare il bare nuovo sono arrivati due bei vigili e gli hanno fatto la multa perché non posso stare qui e stanno lavorando. Quella bella Audi lì da 70.000 euro non so di chi è invece di fargli la multa mi ha detto che è meno, innanzitutto ma devi stare calmo poi è a meno da 5 metri dalla curva intersezione, cosa non vera. Un video su una pagina Facebook ha messo in evidenza una situazione un po' incresciosa che vi ha fatto rimanere un po' tutti male qui attorno. Esatto, ieri verso le 12.30 mentre ero al bar qui davanti alla tenda di struttura non dico il nome per non fare pubblicità, c'erano degli operai che scaricavano praticamente l'ultima attrezzatura per rinnovare, per fare l'inaugurazione, il bar di ieri sera arriva una macchina di vigili, si ferma, scendono, fanno la multa e poi gliela consegnano perché secondo loro il cammincino non poteva stare sul marciapiede. Mi giro e un paio di giorni qui c'era un Audi TT parcheggiata vicino alla curva e con la parte anteriore sopra il parcheggio dei veicoli e due ruote ho chiesto ai vigili perché avessero usato due pesi, due misure al limite gli operai gli potevano dire guardate ragazzi spostate i camion che qui non si può stare mi hanno risposto col dito davanti alla faccia di stare calmo che loro sanno fare il loro mestiere, poi sono presi e sono andati via. Questa è una situazione che un po' in questa zona, in questo incrocio si va avanti da tempo è un punto un po' cruciale questo? È un punto cruciale, è un punto pericoloso, le strisce non sono ben segnalate molte volte l'anno scorso hanno fatto le strisce a luglio qui e si sono dimenticati di fare le strisce a 20 metri sono state fatte il 20 di agosto nonostante i vari ripetuti appelli agli assessori sì 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 ma poi dopo non si è fatto vedere più nessuno le condizioni dei parcheggi le sappiamo qui se venite al pomeriggio o fra un paio d'ore vedete le macchine parcheggiate sui velicoli due ruote senza multe sia qui e sia sulla parte di viale di Riatico allora è giusto che se le macchine parcheggiano nel posto sbagliato i vigili facciano le multe ma abbiano un occhio verso chi lavora e per chi lavora specialmente sotto 40 gradi visto e considerato il momento di crisi che c'è in Italia quindi un po' di attenzione per zone che d'estate diventano un punto di animazione bisogna avere un po' d'occhio perché non stiamo qui noi a smuovere l'acqua noi stiamo qui a lavorare e come lavorano loro lavoriamo noi bastava scendere e dire ragazzi spostate il camion e quindi l'avrebbero spostato subito immediatamente a parte che erano due per ai perciò io penso che quando sono andati dal padrone in fabbrica adesso è un padrone compressivo perché si è visto quello che è successo però potevano anche capito essere redarguiti dal loro padrone è giato è giato